Disperso tra Viene e Trieste, vestito di vesti piuttosto modeste, con l'aria piuttosto sguarnita compila registri di doppia partita. Bebe che vi un stramina, ama l'imperatore, poi resta fermo per ore nella stanzetta in affitto, da solo cora freddore con gli occhi fissi al soffitto, chi è, chi è, chi è? E' l'impiegatino asburgico nell'Austria di fine secolo, sicuro di morir tisico che naufraga dentro l'epoca. La notte faceva gli incubi e sogna che lo depilano, sarà che alla mamma bulgarà, o il fatto che non comunica quell'impiegatino asburgico, che un giorno morì di forfora, e sempre soffrì di sciatica, sicuro che fosse l'anima. Grazie. Grazie. Grazie.